Carlotta Borelli ci parla, avanti avanti Carlotta, di un tema importantissimo, l'arte di delegare. Di andare forte. Ciao a tutti, grazie. Aspetto, parto, vado. Sono Carlotta Borelli, sono una traduttrice di Modena, insegno traduzione specialistica all'Università di Mantova. Nella mia vita professionale soffro della sindrome del faccio tutto io. Ci penso io, non ti preoccupare, non delego niente perché lo voglio fare io. L'idea di questo speech mi è venuta proprio durante un momento di crisi professionale dato dal lo voglio fare io. Di fronte a un sacco di progetti lasciati a metà e di idee ancora da sviluppare ho detto forse è il caso di fermarsi un attimo e di riflettere. Facciamo un passo indietro. Ho sempre amato eventi di questo tipo, di confronto, di supporto reciproco, di sostegno tra freelance. Perché in realtà siamo sempre visti un po' come una setta, come una sorta di kamikaze che sfidano la sorte per poter fare il lavoro che piace nel modo in cui piace. Essere freelance alla fine fa figo. Abbiamo quella marcia in più. Più di una volta mi è capitato di fare dei colloqui di lavoro e di sentirmi dire che l'essere freelance e avere l'esperienza di una partita IVA era sicuramente un vantaggio, un punto in più rispetto agli altri candidati. Perché noi freelance alla fine siamo in grado nel nostro piccolo di gestire un'intera azienda a 360 gradi. Quello che facciamo ogni giorno è tenere alte le vendite, occuparci della contabilità, occuparci di tutti gli aspetti gestionali dell'azienda senza perdere di vista anche la comunicazione e il marketing. Quindi insomma siamo un po' ovunque. Tutto questo in realtà ci fa sembrare un po' dei supereroi o perlomeno ci piace pensare di esserlo. Il mio momento di crisi professionale è arrivato proprio nel momento in cui mi sono detta cavoli io però da grande voglio fare la traduttrice, non voglio essere bloccata sempre su progetti che poi non riesco mai a portare a termine. Voglio fare quel passo in più nella mia attività. In realtà poi ho visto anche, mi è capitato sotto gli occhi il logo del freelance camp in stile DHL e vedo che rientra perfettamente nella descrizione. e quindi ho pensato di fronte a questa marea di idee che volevo sviluppare, di progetti, di progetti lasciati a metà ho capito che era arrivato il momento di delegare. In particolare avevo in mente l'idea di sviluppare una presenza sui social, curare il sito web, Facebook, Instagram. Quindi ho cominciato a frequentare tantissimi corsi online, ho cominciato a creare il mio calendario editoriale, ho seguito un corso di scrittura sul web. Dopo un anno però non avevo ancora concluso assolutamente nulla perché mi mettevo alla scrivania, cominciavo a pensare che so, alla fotografia carina da mettere sui social, oppure al testo che potesse suscitare un po' una reaction, niente, il vuoto. Quindi dopo un anno io ero ancora al punto di partenza ed è stato a quel punto che mi sono detta io questa roba non la so fare, è inutile che ci giri intorno, non sono in grado di farla. E quindi ho bisogno di una persona che mi affianchi, ho bisogno di una persona a cui delegare questa attività. Se proviamo a pensare a tutte le attività che svolgiamo noi nel nostro lavoro, ce ne sono sicuramente alcune che ci portano via un sacco di tempo, più tempo del dovuto, o perché non siamo in grado di farle o perché non sono magari parte del lavoro per cui abbiamo studiato o semplicemente perché non abbiamo voglia di farle. Queste sono il tipo di attività che possiamo pensare, anziché dobbiamo pensare di delegare. In realtà la prima reazione quando pensiamo a delegare una parte del nostro lavoro a un estraneo fondamentalmente, a parte questa, domanda. I problemi che ci si presentano davanti sono due. Chiedo scusa alle slide queen, ma ho un punto elenco. La prima obiezione che viene mossa solitamente è delegare costa dei soldi. Io non ce li ho, soprattutto chi all'inizio non sempre se lo può permettere. Quindi preferisco fare tutto io, gestirmelo da sola e tenermi quei soldi nelle tasche. Il problema qui è la base. Non abbiamo organizzato la nostra attività in modo da poter delegare una parte delle sue funzioni a qualcuno di esterno senza considerarlo però uno spreco di soldi. Delegare non diminuisce il nostro valore, anzi nel momento in cui deleghiamo acquistiamo tantissimo tempo che possiamo dedicare alle attività che ci piacciono di più, a sviluppare quei famosi progetti lasciati a metà, perché no, anche a dedicarci semplicemente alle attività che sono più redditizie del nostro lavoro. E quindi se continuiamo a fare sempre le stesse cose, se continuiamo sempre a girare intorno a quelle attività di sempre, non riusciamo mai a fare quel passo in più, a fare quel passo in avanti per la nostra azienda per migliorarci. quindi senza bisogno di arrivare a pensare come una multinazionale, ma a volte c'è bisogno di fare un passo indietro e di riorganizzare un attimo la struttura della nostra attività, della nostra azienda. Il secondo dubbio, il secondo problema è che non delego perché voglio che le cose vengano fatte come dico io, perché solo io so come voglio fare le cose. Nel mio caso, per esempio, io considero la comunicazione una cosa personalissima, quindi come posso pensare di delegare ad un estraneo la comunicazione? Solo io so come voglio comunicare il mio messaggio al cliente. Quello però che dobbiamo ricordarci è che abbiamo dei limiti, non siamo supereroi, abbiamo dei limiti, quindi possiamo essere bravissimi nel nostro lavoro, magari anche in qualche attività collaterale, però non possiamo essere bravissimi su tutto. Abbiamo delle lacune, abbiamo delle carenze e non sempre otteniamo risultati all'altezza delle aspettative. anche in questo caso il delegare, però, dobbiamo ricordarci che ci permette di guadagnare tempo. Di affidarci a un professionista ci permette anche di imparare delle cose in più, di guardarlo, guardare come lavora, imparare da lui e poi magari in un secondo tempo recuperare, riprendere noi il controllo della situazione. Per gli amanti di dati, statistiche e numeri vi presento la regola di Pareto. Pareto era un sociologo economista che a cavallo tra l'ottocento e il novecento stava studiando la distribuzione della ricchezza nel mondo e ha scoperto che è possibile massimizzare i risultati minimizzando gli sforzi attraverso l'applicazione di una semplicissima regola matematica che è quella dell'80-20. Cosa vuol dire? Che noi possiamo ottenere, anzi, che l'ottanta per cento di ciò che otteniamo, dei nostri risultati, è dato dal 20 per cento dei nostri sforzi, delle nostre attività. Questo era valido per quello che stava studiando lui. Allora, l'ottanta per cento della ricchezza mondiale è concentrata nel 20 per cento della popolazione. Regola tra l'altro ancora valida oggi. In realtà è stato visto che la regola dell'80-20 è applicabile a qualunque aspetto lavorativo e non della nostra vita. Per esempio, sul lavoro l'ottanta per cento delle nostre vendite è dato dal 20 per cento dei nostri clienti. Oppure, durante una riunione l'ottanta per cento delle decisioni vengono prese nel 20 per cento del tempo. Facciamo qualche esempio. Nella vita di tutti i giorni, quando leggiamo il giornale, l'ottanta per cento delle notizie è concentrato nel 20 per cento delle pagine. Il resto sono figure, sono pubblicità. Se guardate i vostri cellulari, l'ottanta per cento delle chiamate in entrata e in uscita vengono effettuate da e verso il 20 per cento dei numeri che avete in memoria. A cosa serve la regola di Pareto in questo contesto? La regola dell'80-20 ci dà la fotografia di una situazione. Ci permette di avere un punto di partenza su cui fare delle valutazioni. Provate a fare una lista di tutte le attività che svolgete per il vostro lavoro e cercate di capire qual è quel 20 per cento che vi permette di ottenere l'ottanta per cento dei risultati. Il resto delle attività possono essere delegate. Qual è il rischio se non lo facciamo? È di perdere tantissimo tempo, l'ottanta per cento per la precisione, in attività che ci portano solamente il 20 per cento dei risultati. Quindi delegare in questo senso può essere visto come un investimento, come un modo per guadagnare tempo e dedicarci a quelle attività che ci portano più soldi, a quelle attività che riguardano prettamente il nostro lavoro, a sviluppare quei progetti e quelle idee che abbiamo lasciato a metà. In che modo si delega? Qual è una delega efficace? Per rispondere ho rispolverato le famose V questions dal libro di inglese. Innanzitutto dobbiamo scegliere a chi delegare, chi è la persona che abbiamo scelto, perché abbiamo scelto quel professionista. Per esempio possiamo scegliere una persona che è particolarmente competente in un settore. Io per esempio mi sono affidata a una persona che ha già lavorato con dei traduttori e quindi l'ho trovata particolarmente competente, conosce già il mio settore. Potete scegliere per esempio una persona che è particolarmente motivata nel suo lavoro. Comunicate a questo professionista il motivo per cui lo avete scelto, per poterlo stimolare e per poterlo responsabilizzare. Il cosa, che cosa deleghiamo, quali sono le attività che abbiamo deciso di delegare? Ho un vuoto, arrivo eh. Perché volevo dirvi una cosa importante in realtà su questo. Si tratta fondamentalmente di un semplice passaggio di consegne che deve essere fatto in un momento di tranquillità lavorativa per poter passare al nostro collaboratore le informazioni nel modo più lineare, più preciso possibile. Il perché deleghiamo? Pensiamo alle motivazioni che ci spingono a delegare queste attività. Comunichiamole al nostro collaboratore cercando di trasmettergli anche il nostro punto di vista. perché deleghiamo quella determinata attività? Che cosa ci aspettiamo da quel lavoro? Come vorremmo che fosse fatto? Gli trasmettiamo queste informazioni insieme, perché no, anche alle nostre paure e ai nostri timori. Infine il quando, le tempistiche che sono fondamentali, cioè è una delega a tempo determinato, a breve termine, ti delego questo lavoro perché io non ne voglio più sentire parlare. Magari potete stilare così un calendario, una tabella di marcia con qualche pit stop per controllare come procede il lavoro, se sta andando tutto bene, se ci sono state delle difficoltà, come sono state risolte. Infine, faccio una specifica. Nel titolo di questo speech ho volutamente lasciato io non so farlo, che è diverso dal concetto di io non riesco a farlo, io non ho tempo di farlo. Io non so farlo presuppone una nostra mancanza, un nostro limite, la nostra incapacità di fare qualcosa. Presuppone che perdiamo su determinate attività un sacco di tempo, perdiamo voglia, perdiamo energie perché non ce la facciamo, perché non siamo in grado di farlo. In questo caso delegare significa farci aiutare da qualcuno che è più competente di noi. Io non riesco a farlo invece. Succede quando non abbiamo tempo di fare le cose, quando ci troviamo con un sacco di lavori accumulati, con delle scadenze incombenti, quando arriviamo a sera con l'idea di non aver concluso nulla durante la giornata. Questo presuppone una mancanza di organizzazione, di pianificazione quotidiana, settimanale, del nostro lavoro. In questo senso delegare potrebbe significare, per esempio, farsi affiancare da una figura fissa, da un dipendente, perché no? Qualcuno a cui delegare delle attività più rutinarie. Però questo presuppone in realtà un passaggio da una normale partita IVA a una mentalità invece di tipo più aziendale. Questo però è tutta un'altra storia e probabilmente non basterebbe un intero freelance camp per parlarne. Per quanto riguarda la delega è tutto. Io e la Dea Kali vi ringraziamo per l'attenzione.